...edizione di Danza sotto le stelle, qui al piccolo chalet, facciamoci un applauso, un po' di atmosfera, un po' di calore, c'è l'uomo di vedere la presenza del sindaco di Alba Triatica, professoressa Antonietta Caciotti, grazie sindaco di essere qui con noi insieme all'assessore al turismo di Alba, Paolo Cichetti, e al consigliere del comune di San Benedetto del Tronto, Emilio del Zompo, e al presidente del premio Donna, Abruzzo Marche, il professor Francesco Cianciarelli, nonché mio padre, grazie, grazie, e naturalmente anche ai nostri giornalisti, amici appassionati, osservatori speciali questa sera, anche perché loro hanno il compito di testare un po' quello che è il movimento danza nelle due province. Bensi banche, un po' di moda di cosci e inizia a tutti, grazie insieme all'assistoga, entriamo laLa, una domanda di solare a loор Salata un po' di moda di rosEE qui con omnici a radcana, nonché un po' di pros 미로, ogrivi, fino a primi, frappego, la woud'estima del vitamin Della 3 처ada di tante di Si che, vogliamo fare una sagetà, andre' di leafletit, facciamoci un po' di corruzione, indissima che mio gruppo di ansia, sono qui mediossi pe Libre per spazità e donna le posiziglio rischio rossi! Buon appetito! 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 Buon appetito!